Ciao ragazzi sono Mystics Audio Video Production, oggi vi vado a illustrare, a far sentire come suona il Schwerkraft Machine della Tegler Audio Manufacture. Questa macchina è una macchina interessantissima perché è un compressore VariMu di base, ma in realtà è 11 compressori all'interno di una sola macchina. Perché come vedete subito qui abbiamo il pomello modalità che va fino a 11, infatti possiamo selezionare 11 tipi di compressioni. Vi dico subito che la filosofia della Tegler è quella di vendervi il prodotto solamente dopo che lo avete provato approfonditamente nel vostro studio. Questa secondo me è una cosa molto molto interessante per quanto riguarda gli hardware analogici perché sono anche delle macchine che costano parecchio, quindi è giusto provarle prima nel vostro studio e poi decidere se finalizzare l'acquisto o meno. Infatti la Tegler vi lascia 14 giorni di tempo per poter provare qualsiasi tipo di macchinario Tegler tramite il loro sito. Quindi vi lascio il link in descrizione, andate direttamente al sito Tegler per poter provare direttamente nel vostro studio qualsiasi macchinario. Oggi ho qui il Schwercraft Machine che di base è un compressore VariMu, infatti all'interno ci sono delle valvole ed è una macchina molto pesante, molto molto pesante, ma a me piacciono le macchine pesanti, molto molto solida. Molto semplice come vedete, abbiamo ovviamente i controlli normali di un compressore, input, output, abbiamo la threshold, attacco, rilascio, il mix che praticamente è il nostro blend molto utile per andare a utilizzare compressioni molto molto importanti e poi andare a mischiare insieme al segnale non processato. Sidechain che è molto interessante, è differente dalla normale concezione sidechain perché non abbiamo solamente il taglio delle basse frequenze fino a 300 Hz, ma se spingiamo ancora avanti la manopola vediamo che possiamo decidere dove andare a enfatizzare maggiormente la compressione, più sulle basse frequenze, meno sulle alte frequenze, oppure più sulle alte frequenze, meno sulle basse frequenze. Quindi è davvero molto versatile questo controllo. E qui abbiamo il nostro schermo LCD. Questo schermo LCD è fantastico perché è davvero molto denso di pixel, quindi molto molto definito e andremo a vedere la nostra gain reduction. Ovviamente questo view meter andrà a comportarsi in modo differente a seconda delle modalità che noi andiamo a scegliere. Abbiamo 11 tipi di modalità, non me le ricordo tutte in memoria, comunque abbiamo la tipologia Varitube, Varimew, VCA, che è chiamata anche Chart Analysis, abbiamo Drum Smasher, Diode Presser, non me le ricordo più, Vocal Leveler e così via. Quindi tantissimi tipi di modalità. Ma che cosa cambia in queste modalità? Perché sì, la macchina di per sé è un Varimew. Cambia ovviamente, all'interno c'è un cervello che va a gestire un po' il tutto e cambia come vanno a comportarsi i pomelli dell'attacco, rilascio, threshold e ovviamente anche il segnale all'interno, come viene processato. Quindi è sì un Varimew, ma può comportarsi in modo molto aggressivo e molto veloce, cosa inaspettata appunto da un Varimew. Quindi è una macchina davvero molto molto interessante. Questo Shurecraft Machine porta con sé anche la tecnologia che utilizza Tegre sulle sue macchine, ovvero quella di poter essere controllata in modo remoto, quindi RC. Perché tutti quanti i potenziometri sono ovviamente motorizzati e possiamo andare a manipolare appunto questa macchina distante, anche se la macchina si trova nell'altra stanza, per esempio. Quindi è molto molto utile. Con un cavo Ethernet collegato al vostro PC utilizzate il plugin direttamente nella DAW e potete anche andare a richiamare dei settaggi, quindi salvarvi i vostri preset. Ovviamente il plugin non processa nessun segnale, è solamente un comando remoto e andrà a dire appunto alla macchina come andare appunto a posizionare tutti i potenziometri. Quindi il segnale è sempre analogico, ma con il plugin andate praticamente a manipolarla da remoto, quindi è una cosa fantastica. Andiamo subito a sentire come si comporta il Shurecraft Machine sulla mia DAW con diversi projects. Ok allora testiamo il Shurecraft Machine, lo testiamo sia in modalità mastering, quindi mettendolo ovviamente con un insert nel master bus, ma lo utilizzeremo ovviamente anche per magari comprimere una voce, comprimere magari la batteria, perché questo può essere utilizzato in diversi modi, essendo comunque 11 tipi di compressioni tutti nella stessa macchina. Di base la macchina è un varimew, infatti è valvolare, ma con le differenti modalità possiamo andare a manipolare le varie risposte degli attacchi, del release e della threshold, perché all'interno ovviamente c'è un cervello che gestisce tutto quanto questo. Andiamo a provarlo ad esempio sul master. Adesso sono in modalità 1, quindi lo vado a utilizzare come se fosse un multiband compressor. In realtà voi dite come funziona questo multiband? In realtà non lo so, perché è abbastanza un segreto, nel senso che all'interno c'è un cervello che splitta ovviamente le varie frequenze in macro regioni, come fa appunto un multiband, e qua verrà visualizzata la gain reduction della regione che praticamente va a comprimere maggiormente. Quindi dove abbiamo la gain reduction maggiore, questa è quella che verrà mostrata qui. Ovviamente ogni volta che noi andiamo a cambiare modalità, come vedete qua sopra, praticamente andiamo a cambiare come va a gestire gli attacchi, i rilasci, i threshold e la macchina, perché ognuno avrà delle peculiarità differenti. Questo è il multiband compressor, quindi andiamo a sentire un po' come si comporta. Vedete che sta lavorando tantissimo, siamo comunque in bypass. Andiamo ad attivarlo. Sentite che sta comprimendo un sacco sulle basse, quindi uso un sidechain. Tu lasso mi puoi intuire che cos'è, che vuol dire cercare una strada diversa, non sarò, non sarò sempre la stessa. Non sono come gli altri, non sono come te, non mi farò strada, passando sopra il tuo re. Possiamo anche blendare in questo modo. Se non è forte starò col fiato sul collo, sono regina qui a corto, ogni tuo sforzo sarà nulla. Le tue parole sono vere per te, ma mi sembra che qua ogni logica si è fatta da sé. Tu lasso mica intuire che cos'è, che vuol dire cercare una strada diversa. questo basso è veramente preponderante ok proviamo ad usare un altro tipo di modalità utilizziamo un very tube che è molto più morbido ogni logica si è fatta da sé tu lascia unico a intuire che cos'è che vuol dire cercare una strada diversa non sarò, non sarò sempre la stessa non sono come gli altri, non sono come te ogni varo strada passando sopra il tuo re molto morbido questo proviamo adesso classic bar review questo fa proprio da collante sarà nulla le tue parole sono vere per te ma mi sembra che qua ogni logica si è fatta da sé tu lascia unico a intuire che cos'è, che vuol dire cercare una strada diversa non sarò, non sarò sempre la stessa non sono come gli altri, non sono come te ogni varo strada passando sopra il tuo re sopra il tuo re voglio provarlo adesso come se fosse compressore per la voce quindi andiamo ad isolare solamente la voce sentiamo voglio utilizzare il optical compressor che è presente come se fosse l'LEA 2A ok ok vai passato le tue parole sono vere per te ma mi sembra che qua ogni logica sia fatta da sé tu lascia unico a intuire tu lascia unico a intuire che cos'è, che vuol dire cercare una strada diversa non sarò, non sarò sempre la stessa non sono come gli altri, non sono come te mi farò strada passando sopra il tuo re volevi essere forte volevi essere forte starò col fiato sul collo sono regina qui a corda ogni tuo sforzo sarà nulla ah, 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 ah le tue parole sono vere per te ma mi sembra che qua ogni logica sia fatta da sé tu lascia unico a intuire che cos'è, che vuol dire cercare una strada diversa wow proviamo a cambiare adesso il tipo di canzone andiamo su questa che è un rock soul tipologia andiamo a sentirlo sempre sulla voce ok cambiamo tipologia vocal level eh ok l'hai passato molto presente molto presente l'hai passato l'hai passato bellissimo adesso voglio farvelo sentire magari sulla batteria usiamo adesso il drum smasher e io adoro questo per la batteria perché appunto mi va a distruggere i transienti ma utilizzo il blend vi faccio vedere allora facciamo ovviamente funzionare un po' la batteria magari utilizziamo più lume ok così senza side chain prima dopo c'è più più attacco sentite il rullante usiamo il blend prima dopo molto più aggressiva possiamo anche usare un side chain per preservare le basse prima dopo usiamo una threshold elevata perché abbiamo tagliato le basse che era molto più ferma prima adoro ok ovviamente qui possiamo utilizzare diverse tipologie come ad esempio il Varitube Compressor che è un compressore molto molto morbido possiamo anche provarlo qui sul main c'è davvero molto morbido c'è davvero molto morbido a me piace utilizzare anche queste tipologie di curve per andare ad enfatizzare praticamente la compressione più sulle alte frequenze rispetto alle basse quindi con questa parte qui noi andiamo proprio a tagliare la compressione sulle basse con queste parti qui invece andiamo a dire comprimiamo le basse ma andiamo comunque a comprimere di più sulle alte frequenze questo invece il contrario andiamo a comprimere di più sulle basse frequenze cosa che è un po' strano da utilizzare ovviamente proviamo il classico al Varitube che è molto molto morbido sta proprio da collante ok l'ultimo che vorrei farvi vedere è la modalità stereo transformer che praticamente vi crea questa saturazione di trasformatori quindi un po' più sulle basse frequenze diciamo incentrato e ed è molto 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 bello. andiamo a sentirlo andiamo a sentirlo proprio sul master proprio una saturazione da mastering ma è passato ma è passato e e ma è passato 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 ok questo è quanto secondo me è una macchina davvero molto molto valida molto versatile perché abbiamo 11 tipologie di modalità di compressione che possiamo utilizzare di base la macchina è un vari mio abbiamo una macchina che è ovviamente valvolare però appunto con queste modalità il cervello digitale va a cambiare un pochettino come vanno a come va a comportarsi il segnale con l'attacco rilascio e threshold e quant'altro molto utile il side chain filter perché quando abbiamo tantissime basse frequenze creiamo un effetto pumping troppo elevato è utilissimo il blend deve una macchina che secondo me è molto molto interessante fatta molto 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 bene ed è anche molto interessante appunto avere il display digitale ovviamente manifattura tedesca tegler con potenziometri tutti quanti motorizzati con il plugin che possiamo gestire appunto a distanza con il cavo ethernet che dire una fantastica macchina se volete provarla anche voi avete il link in descrizione potete andare direttamente sul sito della tegler e potete provare la macchina direttamente nel vostro studio per 14 giorni e decidere poi dopo se siete interessati a tenere la macchina o meno quindi lasciate un commento qua sotto fatemi sapere cosa ne pensate come sempre ci vediamo al prossimo video ciao